Buon pomeriggio, buon pomeriggio dallo stadio Raffaele Mancini di Fano dove agli ordini del signor Pietro Scatigna di Taranto, coadiuvato dagli assistenti Mauro Dell'Olio di Molfetta ed Emanuele Pansini di Bari, stanno per scendere in campo le squadre di Alma Juventus Fano in maglia bianca, Olimpia Agnonese in maglia granata, i colori sociali della formazione molisana, il tocco verso Olivi, quindi verso Gucci, in area Gucci, mentre nel mezzo Gucci, c'è Sivilla, ancora se l'ha ribattuto Olivi, il tiro di Olivi, Sivilla, attenzione il gol, e c'è il gol, Andrea Sivilla, al limite il tocco verso Petrone, il tiro dal limite e la parata di Paolo Ginestra che salva il risultato, si accentra Borrelli mentre nel mezzo Gucci di testa e c'è il gol, Niccolò! Gucci! 2-0! Capitano Litterio, Marconi capisce tutto e fa ripartire, sopra l'errore di Marconi, attenzione si è ricamato, al limite è ricamato, però la conclusione, il gol, l'errore di Marconi, Sivilla prova ad andare via, l'ex di turno, posizione della destra, Sivilla, Sivilla mette nel mezzo, Favo! E c'è il gol! Vittorio! Favo! Sivilla il tocco verso Borrelli, quindi Orrusso che parte il tiro e c'è il gol! Fasquale! Lorusso! 4-1! Sivilla tocca verso Gucci, Gucci verso Lunardini, il tiro di Lunardini salva sulla linea, c'è la gloria anche per Lunardini! Una ottima alma, piega l'Agnonese, apparsa comunque poca cosa qui al Mancini!